Due cestelli sui quali lavoravano in contemporanea altrettanti operatori, così sono cominciate lunedì mattina in piazza 25 Aprile a Cassano Magnago le operazioni di abbattimento di 5 tigli giudicati malati da una perizia agronomica commissionata dal comune, 12 inizialmente le piante che il comune aveva ipotizzato di abbattere. Questa prima fase di lavori tocca però soltanto 5 piante, alcune di residenti in ogni caso non hanno condiviso la scelta operata dall'amministrazione comunale. Si è saputa il venerdì dopo ferragosto quando la gente tutta via, tutta in vacanze e nessuno ha la possibilità di protestare. Il venerdì sera ti mettono il cartello che lunedì mattina tagliano le piante, puoi fare ricorso entro 60 giorni, quando le piante sono abbattute che ricorso vuoi fare? Grazie a tutti.